La mia ambizione è che i 20 milioni di visitatori di Expo divengano, dopo aver attraversato quel sito, 20 milioni di ambasciatori del diritto al cibo nel mondo. Questa è l'ambizione. Quindi cittadini consapevoli che attorno alla grande questione alimentare globale c'è un grande tema di equità, di giustizia, di cittadinanza. Questa è la vera ambizione che l'Italia deve avere nel proporre un Expo partecipata, consapevole, all'altezza del tema che deve sviluppare con i sei mesi positivi.